Buonasera, sono Mario Fantaciona, Radio Caserta Nuova direttamente, ringrazio il mio amico conduttore Luigi Di Filippo che mi ha invitato per stasera, perché cerchiamo di fare compagnia di promuovere questa serata di cantanti e cantautori. Music Festival 4, ricordiamo, è una serata promossa dall'Associazione Culturale Sangre 90 che ha promosso il direttore artistico Luigi Di Filippo, vorrei fare un applauso a Luigi Di Filippo. Direttore esecutivo, un altro applauso anche se non è presente, ma sicuramente sta con noi il giornalista Marco Usai. Ti vediamo, sarà un ringraziamento da parte mia, la giuria presente stasera, valuteremo cantanti, cantautori, la qualità dell'ottima musica italiana. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare i giovani per far arrivare alla finalissima del 25 maggio 2009 al Teatro Pierrot di Ponticelli, un teatro che già ha visto le mitiche geste del Gifoni Film Festival. Questa finalissima, ricordiamo, 25 maggio, ci sarà una giuria della qualità che valuterà i primi tre vincitori e invece una giuria di artisti giovani del settore musicale scelti direttamente dall'Associazione Culturale Sangre 90 che assegneranno quest'anno per la prima volta il premio della critica. Il premio della critica è intitolato una ragazza ha deciso da poco e vorrei dare il mio applauso a questa persona che non c'è più, Valentina Giovannini, un applauso per la splendida Valentina che sta sempre. Dove sei? Come stai? Cambierai se cambierai due perché siamo noi, due lottatori, due retunci, due canzoni d'amore. Comunque io e te, con le stesse parole, seduti a un caffè e vorrei solo senti ora che te ne vai, se amore, amore tendrai più amore di mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, I'm a man of meaning, she's I hope my privileges may cease My mother really feels my eyes Oh, let me hide Cause they always start to cry Oh, a man Di tempo da spiritare Ti avevo anche io, io Qualcosa da sperareiza Avanti a me Qualcosa da finire insieme a te Grazie a tutti. Dammi qua, se ti va, io ritengo su a Milano, con te, che c'è, nel tabonetto, non c'è un'anima, vuoi star tranquillamente a me dai?